Il passaggio transitorio è utile perché almeno ha un effetto immediato, mentre per esempio quando qualcuno dice ampliamo a dismisura o infinitamente o togliamo il numero chiuso, in realtà tu hai due effetti, uno che impoverisci tutte le lauree infermieristiche e quello sarà il problema, seconda cosa che comunque quegli effetti tu li vedi fra dieci anni, non li vedi domani, quindi noi rischiamo di fare delle scelte che avranno effetto fra dieci anni, peccato che fra dieci anni avremo più medici laureati rispetto a quelli che vanno in pensione, quindi non c'era più quel problema. Mentre questa è una soluzione, sicuramente una soluzione tampone, ma che può risolvere o affrontare perlomeno un problema nell'immediato. Ma in grado le difficoltà che ci sono, non c'è dubbio, siamo ai vertici nazionali ed anche di un'area ricca come il nord-est, sia per il benessere sia come prestazioni sanitarie. È ovvio però che ho la piena consapevolezza che c'è un sistema sanitario nazionale che deve avere delle importanti risposte, soprattutto per la bassa intensità, dove ci sono liste d'attesa ancora lunghe, e anche il Friuli Venezia Giulia subisce gli effetti di mancate scelte di vent'anni fa. Quindi su questo non dobbiamo lavorare e lo dico in un momento nel quale da Presidente di Regione potrei crogiolarmi con i dati positivi del benessere, con i dati positivi dei LEA che siamo tra le poche regioni a rispettarli, quarti a livello nazionale, però in realtà penso che da Presidente di Regione devo pormi gli obiettivi di risolvere quello che non funziona, non dire quanto siamo bravi.